Vieni dal nonno, vieni su dal nonnino, vieni dal nonnino. Oggi ti sei proprio appisolato lì, ti piace lì, però il nonnino non ti vede più. Allora oggi è venuta la cat sitter e per la prima volta l'ha leccata. Era buono, non è scappato, non ha avuto paura per niente e l'ha leccata. Quindi sono contenta perché nel caso di dovesse andare via lei è da sola con lui, che è così che non si fa prendere, così che si nasconde. Invece gli sto insegnando anche tutti i posti segreti di Mosini. Senti, sbadigli sempre, ma com'è? Hai anche il naso che cola, guarda, hai una gocciolina. Guarda che faccia. Mister Magu, Mister Magu.